Ci aggiorniamo, spero che vada tutto in porto, almeno qualcosa ben riscioglie. Grazie ragazzi, buona serata, buon fine, ci vediamo poi. Grazie. Se vuoi, mi sembra una soluzione corretta e logica, ci portiamo fuori anche a te. Se gli altri sono più avanti, possono sbalicare tranquillamente in cambio. Ok, ok, allora non so, troviamo il tempo lei, mi sembra che io con lei, dai. No, merda. Ok, mi sembra una soluzione logica. Attendili per qualche minuto che arriva, non cambio. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ciao. Quasi ci siete, eh? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Questa è un momento che bisogna tenere alta l'attenzione perché non deve sfuggirci nessuno. Adesso... ho fatto intorno a quel colore, da dove? Sì, sì... Non via quella colore... no, 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 è da scolto. Ok, ok. È l'attenzione... Il colore, non è un'anima. Ok, ecco qua. È un segno. La città è un'anima. Una città è un tranquillità. È un'anima. Chia, è un'anima. Ciao, qua più avanti trovate il ristoro che è il penultimo, poi quasi ci siete, poi ce n'è un altro in fondo in fondo. Ha detto che dobbiamo andare fino alla casa che c'è una casa gialla e dopo dobbiamo prendere la sinistra. Grazie. Grazie. Grazie.